Davvero una bella sensazione quella di aver conquistato la prima vittoria in campionato e per di più contro una squadra, il Cesena, che per dirla come il tecnico Baroni può vantare diversi titoli. Contro i Romagnoli sfatato anche un tabù relativo allo scorso anno, come spiega il vicepresidente Guglielmo Maio. Lo spauracchio Succi finalmente non ha fatto golla a questo Lanciano. Ti dico che mi sono un po' impaurito, ho fatto quattro golli in due partite, però va bene, è una squadra forte in tutti i reparti il Cesena, non è che la scopro. Io la scopriamo noi, magari oggi siamo stati più bravi noi, ma non credo che abbiano problemi. Oltre 200 sostenitori arrivati dall'Abruzzo e da Lanciano, bello no? Li ringrazio perché stanno facendo qualcosa di straordinario quest'anno, lo stadio è sempre pieno, vedo anche in trasferta c'è un bel seguito, quindi faccio complimenti a tutti i ragazzi e tutti i tifosi e la dedico a loro e a mio figlio questa vittoria.